Benvenuti al settimo episodio del Belplayer Podcast e oggi sempre con me Margo Vasoi, numero uno, e Cristiana Dionisio, judge a livello 3 Mamma mia, che onore, mamma mia E sono troppo emozionato, lo giuro, perché non pensavo mai Per chi non lo sapesse, fai vedere la felpa, Cristiana Judge Italy, mamma mia, pazzesco Qua abbiamo un'autorità, si può dire, mi hanno detto Sì, sì, Alessandro Riva metto questo Mi raccomando a fare il bravo Ma manca, dov'è Ale? Mi manca Sta cucinando, ho detto che oggi avrebbe fatto l'anatra all'arancia Infatti ha messo il post su Facebook subito Quello che lancia non è il mio cane, ma è il giochino del mio cane Gli animalisti Vai Claudio, parti Vai, secondo me, vabbè, ciao E ti ringraziamo per essere qua E se ci puoi un po' raccontare un po' di te Ti sei, bravo Cosa fai, cosa non fai Allora, la mia storia Immagino intendiate in Magic, no? Nell'ambito di Magic Quello che vuoi, quello che vuoi La mia storia inizia nel 1994 Proprio quando Magic uscì in Italia L'anno dopo dell'uscita in America Quando il cugino del mio fidanzato Del mio, come si chiamavano all'epoca, non lo so Comprò questo mazzo, 12 mila lire Al negozio locale Io sono di Frosinone, nata a Frosinone E ho vissuto la maggior parte della mia vita Diciamo Sempre tornata qui Anche dopo momenti fuori casa Però ci tengo anche Sono anche una sciuciara orgogliosa Insomma Quindi appunto Cugino del mio fidanzato Che era un assiduo giocatore Sia giochi da tavolo Che videogiochi Eravamo un po' Giocherelloni Io sono nata in mezzo Tra due fratelli Uno più grande Uno più piccolo Maschi E Nerd Sono sempre stata nerd e maschi All'inizio Comunque Anche il mio fidanzato Era appunto super nerd E suo cugino anche Aveva comprato questo mazzo Proviamo a giocare Mazzo in mezzo La classica storia Un mazzo solo Pescavamo tutti da lì E poi ci è piaciuto C'era questo negozio Che si chiamava Le nuvole parlanti A Flosinone Spendavamo tutti i nostri soldini La paghetta Che ci davano i genitori E tutti i nostri pomeriggi A comprare carte Singole Mazzi Ma ancora giocavamo Con questo mazzo in mezzo Così poi dopo abbiamo capito Cognuno doveva avere il suo E abbiamo fatto così Poi anche i miei fratelli Ovviamente Si sono coinvolti Abbiamo iniziato a giocare Tutti i giorni Anzi Tutte le notti In cucina Io e i miei fratelli Questo fidanzato E con mia madre che urlava Alle tre di mattina Andate a dormire Andate a scuola Cioè queste cose Terribili Che sta da fare Con queste figurine Insomma Sempre incazzata Però Giustamente Cioè alle tre Quattro di mattina A volte facciamo Proprio l'alba Per giocare Poi Negli anni Negli anni duemila Lì intorno Wizards Si inventò Il campionato cittadino Non so se ve lo ricordate E Ho iniziato A fare questo campionato Sempre io I miei fratelli Il mio fidanzato Il cugino Era quasi una festa Tutte le domeniche Andavamo a giocare Facciamo pranzi fuori Ma era obbligatorio Un arbitro Di primo livello Certificato E non ce n'erano Assolutamente E facevamo Venire a pagamento Un arbitro da Roma Francesco Scialpi Era uno Dei pochi All'epoca Che c'era E veniva Tutte le domeniche O i sabati Lui E l'organizzatore Cioè doveva Pagare Lui Non riusciva E togliere Quindi premi E giocatori Insomma Non riusciva Tanto A giostrarsi E lui Mi ha detto Proprio chiaramente Ti prego Devi studiare Per diventare Arbitro Io ero un po' Tentennante Ma lui Mi ha proprio pregato Maurizio Maurizio Mantua Io ci tengo tantissimo Perché è tutto merito suo Siamo amici Lo devi fare per me Lo devi fare per il negozio Tu sei l'unica serie Che si può mettere lì a studiare Effettivamente Ho iniziato Per amicizia a studiare E mi prendevano anche in giro Gli altri giocatori Che erano ovviamente Tutti maschi Io l'unica femmina Ho studiato Ho sottolineato Le regole Le libri Tipo proprio esame E poi Siamo andati a fare l'esame Al Galactus A Roma Eravamo Tutti maschi E io E Quel giorno Erano tipo 18 candidati Diego Fasciolo Era l'esaminatore Non so se l'avete mai sentito Era un arbitro Prestigiosissimo Avevano tutti paura Di questo arbitro Perché era Autoritario E Passammo l'esame in due Sul 18 E' stato Bellissimo Perché I miei amici Mi prendevano tutti in giro Ma che studi Ma che è sta cosa E' proprio una secchiona Insomma così Invece di giocare con loro A Magic Io sottolineavo Poi M'hanno proprio Fatto saltare Tipo M'hanno presa in braccio A lei A lei Come una cosa di Orgoglio Frosidone C'aveva il suo arbitro No Quindi ho iniziato Il campionato cittadino Ad arbitrare Invece Che giocare Poi ho avuto Ho iniziato A avere problemi D'amore Con questo mio fidanzatino Adesso Non lo voglio Troppo sputtanare Però diciamo Abbiamo avuto Dei problemi C'è stato un tradimento Suo In mezzo Quindi io ero Molto triste Mi dovevo riprendere Era l'unico fidanzato Che ho avuto Nella mia vita Quindi Ero un po' triste E ho iniziato A fare richiesta Tutti i PTQ In giro Per la Toscana Per la Campania Tutte le regioni Insomma Mi rispose Napoli C'erano ISS Non so se Avete mai sentito Italian Superstar Erano dei Tornei Che si dividevano In amatori e pro Se avevi un certo Punteggio Rientravi in pro Altrimenti amatori Ed era organizzato Da Wizards Sempre c'era attaccato Un PTQ Grande Organizzato Privatamente Da un organizzatore Quindi collaboravano Mi chiesero Di partecipare A tutte e due Quindi io Ero super eccitata Ho preso l'albergo Mi hanno dato 18 bustine Questo è stato Il mio compenso Però È stato bellissimo Mi è piaciuto tantissimo Ovviamente Sempre unica femmina A mezzo Un mare di maschi E poi Da lì Mi ha risposto Anche Firenze Quindi sono andata Ad arbitrare a Firenze Poi mi hanno presa Nazionale a Roma E ho fatto l'esame A settembre a Genova Da livello 2 Sempre lo stesso anno Quindi nel 2003 Questo 18 anni Faccio a Gennaio Divento maggiorenne Come arbitro Cavolo Sì Era il 2003 In gennaio Ho fatto l'esame Da livello 1 A settembre Dello stesso anno Al GP Genova Ho fatto l'esame Da livello 2 E poi Sono diventata A livello 3 A dicembre 2005 Poi ho fatto Poi sono diventata Anche livello 4 Nel 2011 Ma nel 2018 O 17 Hanno cambiato Tutta la struttura Hanno eliminato I livelli 4 Trasformandoci In GP e Judge Quindi ho E quindi Tecnicamente Ero A livello 3 GP e Judge Quando ho fatto L'esame Da L4 Quando sono stata Nominata a livello 4 L'epoca c'erano Le sfere Quindi il Judge Program Era diviso In sfere Di interesse C'era Comune Di regole Eccetera E a me Mi hanno Affidato la sfera Dei coordinatori Regionali Ogni Il mondo Era diviso In varie regioni L'Italia E Malta Erano una regione A sé E quindi Io ero già Diventata Coordinatore Regionale Nel 2007 Tramite Wizards of the Coast Quindi mi avevano Assunto loro Come avevano fatto Questo contratto Diciamo Da Il coordinatore Regionale Italiano E poi Quando Sono diventata A livello 4 Sono diventata Coordinatore Dei coordinatori Questo è durato Fino All'anno scorso Perché adesso Con la pandemia Hanno Sospeso Siamo in stand by Ebbene Certo Quello penso tutti Ma Pardon Ti faccio La domanda Invece Allora Sei passata Hai fatto Livello 1 2 3 E poi 4 Ok vabbè Un altro discorso Quanto hai studiato Ma soprattutto Se ti ricordi Più o meno Cosa Cioè C'erano argomenti Particolari Super complicati Allora Per ogni livello È stato Uno studio Diverso Livello 1 Era Strettamente Regole Proprio Ruling Basta E quindi Ho dovuto studiare Le comprenze Per il livello 2 Per il livello 2 Ho studiato Più regole Perché Si presuppone Che le regole Per sapere In modo più profondo E anche Le policy Le penalty Eccetera Quindi si aspettano Uno studio Un po' più profondo Ecco Non Non approssimativo Perché Il livello 2 Almeno all'epoca Era quello Che poi Poteva arbitrare Anche I VTQ Tornei competitive Mentre il livello 1 Era per I tornei regular Certo Anche se si chiamavano Rel 1 2 3 4 5 Quando Iniziato Vabbè Per il livello 3 È stato Veramente L'esame Da livello 3 È molto Molto Complicato È complesso E Anche l'esame Dura Varie ore Non è Lo scritto È È una cosa Più marginale Forse Nel senso Che si presuppone Già Che tu sappia Le regole Ma L'esame scritto È pesante È anche Proprio Minuzioso In tutti In tutti i dettagli Ecco Poi c'è L'orale E l'orale Ti interrogano Per ore Su tantissime Così Tantissime situazioni Di policy Fanno Dei veri e propri Role play Quindi Si trasformano In attori E ti creano La situazione Devi anche Dimostrare Di essere Partecipe Alla comunità Arbitrale Di essere Un leader All'interno Della comunità Arbitrale E lo devi Dimostrare Lì In quel momento Cioè Anche con Cose che hai Fatto prima Perché Ti studiano Nel senso Che ti conoscono Se sei Uno sconosciuto È difficile Diventare Livello 3 Devi Esserti Fatta Conoscere Sul campo Insomma Certo Proprio Un vero Esame Attitudinale Stile Militare Posso dire Queste cose qua Sì 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 Ma Devo dire Che Un po' Come Una mini Laurea Va Ecco Diventare Livello 3 Forse Anche più Difficile In alcune cose Sicuramente Ti insegna La vita Cioè L'esame Stesso Ti insegna Proprio Tanto Di te stesso Della vita Di Gestire I fallimenti Anche Perché poi Non ti dicono Niente Durante l'esame Tu pensi Sempre che stai Per essere Mandato via A calci Eh sì È Bello tosto Livello 3 Ti permette Perdona La domanda un po' così Ti permette Di essere Ed judge Di un GP Cioè Non so bene Come funziona Anche questo Allora Livello 3 E il GP E judge Sono cose Diverse Separate Ok Livello 3 È il leader Non solo Della tua Comunità Locale Ma Un leader Riconosciuto A livello Internazionale Quindi Il livello 3 Sarà Il team leader Ai Grand Prix E poi Può partecipare Ai Pro Tour Perché I Pro Tour Sono strettamente Chiusi Ai livelli 3 Solo Livelli 3 O un livello 2 Che sta per diventare Un livello 3 Può fare l'arbitro A un Pro Tour Ah Ok Sono i tornei più Prestigiosi Dal punto di vista Della Di com'era La scala Ah beh Cioè Era invito Il Pro Tour Sia per gli arbitri Che per i giocatori Diciamo così GP e Judge Dunque Se Eri livello 4 Ci diventavi automaticamente Quindi Io Sono diventata GP e Judge Automaticamente Quando La struttura È cambiata Poi Però Ogni 18 mesi Bisognava rifare l'esame Ed era Una cosa Non ci voglio neanche Pensare Guarda Cioè devi rifare l'esame Da livello 4 Ogni tot Ogni 18 mesi Ed è sempre Complesso uguale Difficile uguale Sì C'è lo scritto Ovviamente Che è E poi ci sono Infinite domande Lunghissime Di situazioni Che Vanno dalle Policy Alle regole Alla comunità Alla gestione Della Degli altri arbitri Perché se sei GP e Judge Devi anche Gestire Creare I team Gestirli Dire cosa fare Essere Fermo Ma comprendere Anche Tutti gli altri Cosa sanno fare meglio Cosa sanno Di cosa hanno bisogno Per essere guidati C'è tutta la preparazione Prima Lo schedule Del GP Dividerli in team Eccetera Quindi ti interrogano Tutte queste cose E ogni 18 mesi Ho dovuto rinnovare Sì 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 Dal 2000 E 11 Inizialmente Non si rinnovava Poi Mi pare Dal 2015 Ogni 18 mesi È stata una bella notizia Quindi La differenza Allora Per diventare GP e Judge Non è facile Bisogna Farsi Conoscere Bisogna un po' Stand out Il termine In inglese Uscire fuori Dalla Dalla Massa Essere speciali Certo Certo Avere Queste capacità Di gestione Di calma Interiore Eh Mizz è quello Eh Sì Tante Tante caratteristiche Poi ovviamente Gli errori Si fanno lo stesso Ma si impara Durante il percorso Beh Io direi Che è proprio Un lavoro Cioè Proprio vero e proprio Se non di più Cioè La preparazione Del GP La divisione Dei Judge Tutte le aree Da gestire Mascarante Oserei Lo è Ma Comunque A parte È bellissimo Anche È molto Soddisfacente Ma ti fa crescere Ti fa capire Tante cose Perché non sei Solo tu A quel punto Ma Certo Sei in un team Non conta Tu sei il leader Del team Ma La vittoria È Tutti insieme Non è Non è tua Soltanto Quindi E hai bisogno Di quelle persone Quelle persone Ti aiutano Ti guidano Mentre tu le guidi È È Molto Appagante E poi Sì Diventa Un lavoro Poi Ogni arbitro Dipende No Quanto tempo Può dedicare A questo mondo Chi lo prende Come lavoro E chi invece È un hobby Ma è anche il tempo Proporzionato Alla scelta Che uno fa Per me È sempre stato Un lavoro Perché Nel 2007 Appunto Ho avuto Questo ruolo Da coordinatore Regionale Da parte Di Di Uozi E Poi Come Coordinatore Dei coordinatori Nel 2010 Poi Quando La struttura È stata presa In gestione Da Giagia Academy Hanno Fatto Un contratto Come community manager Come Community coordinator Insomma Per me è sempre Stato un lavoro Io E anche GP Ho sempre applicato A tutti I GP Perché Era per me Il mio lavoro Non avevo Un altro Lavoro Ma è stata Una scelta Non l'ho voluto Io lavoravo Per Telecom Prima E per Vodafone Non ho voluto Continuare Ho aperto Un negozio A Latina Di Magic Per sette anni Ce l'ho avuto Con Riccardo Tessitori Insieme E Grazie al negozio Potevamo viaggiare Entrambi Tutte e due O partivo io O partiva lui Poi Poi Abbiamo iniziato A viaggiare Talmente tanto Che L'abbiamo venduto Il negozio E Certo Ceduto E abbiamo Continuato a fare Solo Però Tutta la mia Carriera Diciamo Da dopo Telecom È stata Magic Il barbiteraggio I tornelli Wow Per me Per me Sì È stato Lavoro Com'è Essere Diciamo Ti parlo Di tempi Magari Di qualche anno Fa Essere una judge Donna L'unica Donna All'esame Ecco Questo Mi aggiungo Anch'io Obiettivamente Non so Può sembrare Brutta Come domanda Però Ti sei mai sentita Discriminata Non so Trattata meglio Peggio Questa domanda E vi ringrazio Per avermela fatta Perché così Spero di aiutare Anche tutte le mie Colleghe Le future tali Che finalmente Esistono Prima non c'erano Quando ho iniziato io C'erano tre donne Totali Una finlandese Un'americana Che adesso È tra l'altro La capa del brand Magic Come si Sì C'era la finlandese L'americana E un'italiana Poi Questo quando Sono diventata Arbitro io Poi l'italiana È andata via Dopo forse Un paio di mesi Che io sono diventata Arbitro E quindi Sono subentrata Io Eravamo queste tre Due in Europa Uno in America È stata tosta All'inizio Perché era un ambiente Completamente maschile I giocatori Erano solo maschi Nell'organizzazione Anche c'erano solo maschi E Io Cioè Mi sono fatta strada Sono stata fortunata Ad avere i miei due fratelli Che mi hanno Un po' iniziato Alla vita No Perché Sai I soprusi No I suoi amici I loro amici Che Noi facciamo le patate al fuoco Tu sei femmina Non puoi Cose del genere Già da Già da bambina Io Mi sono imposta Va Qui è stato Complicato Perché ti vedevano Un po' come Ma tu che ci capisci Sei da femmina Ci capisci niente Di magic Non sapevano Che io passavo Tutte le notti A giocare Fino alle sei Di mattina Cinque Sei Con i miei fratelli E Poi Quando mi fisso Su una passione Quando la prendo La faccio mia Proprio A 360 gradi Al punto Che ho lasciato Gli altri lavori Per dedicarmi Soltanto E Però Si Ti vede Ti vedevano Come un po' Romana Femmina E c'è no Di storie Da raccontare Poi dopo Se Dopo alla fine Devi tirare fuori Tutto Tutto Quello che devi raccontare Bene Poi Ha cambiato Nel senso Che con gli anni Sono Aumentate Queste donne Mi ricordo Che il mio capo Di Wizards Italia Mi disse Mi dava I goal I tasks No I goals Per ogni anno Da Raggiungere I eventi Piannuali E uno Era sempre Voglio tre Arbitri donne Alla fine Dell'anno Ed era sempre L'obiettivo Impossibile Da raggiungere Però Come Ne parlavo A qualche ragazza No 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 Oddio che paura Oddio no no Poi piano piano Anzi Siamo arrivati A una decina Qua in Italia Ne ho viste Ne ho viste Anche Io Personalmente Ho giocato Dal 2012 13 Fino al 15 Poi ho smesso Per un botto di anni Ho ricominciato L'anno scorso Ma Dal Quando ho smesso Quando ho ricominciato Così a così Ma sia I judge Che anche i player Anche i giocatori Esatto Prima veramente Ce n'era una Eh sì Tutto è cambiato Quando Ma c'è stato Un trigger Speciale C'è stato Un trigger Sì Ha aiutato molto L'America In questo Sono molto Progressisti No La libertà Queste cose Inneggiano Insomma Noi siamo Un po' più Ah ma dice che proprio Il trigger è stato sociale Non Il trigger No è stato Quando Allora Quando Sono state Create Delle polisi Specifiche Sull'arrassment Praticamente Quando è nata La polisi Arassment Quindi Penalità Per chi Faceva discriminazione O per chi Dava fastidio E penalità E penalità Anche per gli arbitri Nel caso In cui Avessero Discriminato Una donna Oppure Un omosessuale O per la religione Così Quando hanno iniziato Avvenimenti Avvenimenti Durante dei tornei In cui Ho subito Personalmente Delle cose Che Inizialmente Magari Non le ho riportate Però poi Sì Quando ti vedono Come un oggetto O sessuale Oppure Non adatto Alla situazione O ti stai zitta La maggior parte Delle volte Lo sono stata All'inizio Specialmente Perché Non volevo Apparire Come rappresentante Del sesso Debole No Ma volevo Apparire Un arbitro E quindi Me le tenevo Dentro Però poi Sono venute Fuo Cioè Alcune Ne sono proprio Uscite Senza che Io potessi Fare nulla Quindi Anche pesanti Situazioni Abbastanza Toste E quindi Hanno dovuto Fare qualcosa Insomma Per evitare Che accadesse Posso dire Che è stata Solo positiva Come cosa In quanto Secondo me Io parlo Della mia piccola Esperienza Io personalmente Essendo Etnicamente Un po' diverso Non ho mai avuto Questi problemi Però Cioè Capisco che Cioè Però nella vita È successo E Capisco Tutto quello Che hai detto Anzi Anche di più Perché hai parlato All'inizio Oltre a quello Che non vuoi Stai un po' zitto Per quello Poi stai un po' zitto Perché se no Sembra che ti vuoi lamentare Per ogni cosa Per ogni piccola cosa Perché molte cose Sono viste Da altre categorie Che molto spesso Sono privilegiate E Non possono capire Secondo me Del tutto Alcune situazioni E infatti Mi sono ritrovato Un sacco Su quello che hai detto È stato molto bello Ma anche perché Poi effettivamente Oh Date la mano Al gioco In questo caso Ho fatto solo bene Perché ho visto Tanta gente in più Tanta gente diversa in più E Questo non può Non può che non far bene Al gioco O alle altre cose In generale Ma Sono anche pentita Di Non aver parlato Prima Su alcune cose Perché Ovviamente Chissà quante altre Hanno subito No Delle Delle Ingiustizie Se Potevo aiutare Se avessi parlato Prima Però Ecco Come stavi dicendo tu Non Non vuoi apparire Cioè Non vuoi che ti Cataloghino Come Ah Quella A cui hanno messo La mano Là Cioè Vuoi essere chiamata Arbitro Non stai Lì Né per Rimorchiare Né per Farti Vedere Come oggetto Sessuale Sei lì Come Parte di un team Arbitrale E Nel momento in cui parli Tendenzialmente L'uomo Non l'uomo Come maschile L'umano Ti vede Per quello Che ti è successo Invece E Allora Non volevo Non volevo Che mi vedessero così Da una parte È stato Meglio per me Perché Volevo Appunto Volevo essere Cioè Sono riuscita A non farmi vedere Come Come Vittima Che poi Non era proprio Il mio La mia volontà Ma dall'altra Magari Se parlavo prima Le cose Potevano anche cambiare Prima Ecco Tutto qua Beh certo Però col fatto Che comunque All'inizio erano Tipo solamente Tre donne Poche donne Comunque Ad essere È già complicato Secondo me Voler partecipare A tutto questo Quindi Voler fare il judge Voler andare in giro Farmi vedere Voglio farmi Le ossa Quindi già magari Andare a parlarne Ma hanno fatto questo Ma hanno detto quello È già complicato Innanzitutto E poi come ha detto Testa Molto coraggiosa Al non farlo Perché già Il non farlo Ti fa capire Che Io voglio essere visto Come un arbitro Che Sia maschio O femmina È indifferente Sono un arbitro Punto Quindi secondo me Immagino Quanto azioni brutte Avrei ricevuto E comunque Si vedono Sono molto divertenti E meno male E ascoltare Perché sono veramente Spettacolari Una buttacela adesso Una buttacela adesso Una ve la butto Adesso Proprio così Allora All'uno dei miei primi Grand Prix All'estero Stavo in Spagna Non ero Capo arbitro Ero un Un livello tre Ma Arbitro Alla La domenica Alla sera Stiamo un po' Sistemando Parlando Dandoci di feedback Come facciamo noi Si avvicina Un tizio Spagnolo Mi pare Fossimo a Barcellona Devo essere Mi pare O Madrid O Barcellona Si avvicina Un tizio Con una valigetta 24 ore Io sto lì Alla Giuggestation Pensavo fosse uno Che Sai Spesso i giocatori E fa anche molto piacere Vengono a dire Complimenti Per l'evento È stato Bello Così O per criticare Anche E mi dice Ciao Ma Vuoi fare sesso Con me Così Vabbè Però è stato Onesto Posso dire questo Io Rimango un po' così Dico No E lui Ma Neanche per soldi Oddio Ma Ha capito Dove siamo No Io dico No Ma anche no E lui Ma tu non sai Cosa c'è In questa valigetta Oddio Oddio Che ci sta In questa valigetta Guarda No Cioè Metto anche Penso Oddio Che staranno Dei sex toys Non lo so Che ci sta Dentro In questa valigetta Comunque No no Ma guarda Che dentro Questa valigetta Se tu sapessi Cosa c'è Nella valigetta Guarda Mi spiace Ma No Tra l'altro Non è proprio Appropriato Insomma E continuava Si allontanava Con sta valigetta Così che me la faceva vedere E Anche Chi c'era Intorno Che hanno Mezzo sentito Perché questo Stizio parlava Un po' In spagnolo Forse tipo Catalano Che era Metà italiano Metà spagnolo Però Hanno Mezzo capito Mezzo no Ma Ti ha chiesto Di fare sesso A pagamento Sì E Che dice Cioè Che voleva Non lo so Mi mostrava Sta valigetta Diceva Che c'erano Delle cose Nella valigetta Da lì È diventato L'hanno chiamato GP Ronin Non so se vi ricordate Il film Con Robert De Niro Si chiama Ronin Tu parla Tu parla di una valigetta Tutto il film Non ti dicono Cosa c'è Nella valigetta Fanno a botte Per la valigetta Si incontrano E si scontrano Questa valigetta Cioè Ma non ti dicono Cosa c'è Questo GP È diventato GP Ronin Perché Tu non sai Ma tu non sai Cosa c'è In questa valigetta Ed era assurdo Cioè Proprio Sembrava Un film Chiaramente C'erano Le P9 Di Alfa Cioè Nulla di Troppo strano Ma chiaramente Visto che Ha tenuto dei soldi Sto malissimo Sto malissimo Sto malissimo Era comunque Cioè All'inizio Quindi forse 2005 2006 Non lo so E ancora Mi chiedo Cosa ci fosse In questa valigetta Però dovevi fargliel'aprire Con il seno di poi Io lo dovevi fare Almeno aprire Fammi vedere Cosa ci ha detto No era il suo incentivo Per me Ah ok ok Ah ok Vieni Vieni con me La apriamo Con me Vedi che Ancora c'è Non ti fidavi Professionista Vuol dire che Avrà funzionato È una È una delle tante Insomma Ma Poi Ce n'ho anche altre Ma magari Dopo Non so Secondo me Ci sta anche Collegarle alle domande Che ti facciamo Sì sì Quando volete Io ho un episodio Per ogni cosa Se no Possiamo scrivere libri Io e le mie colleghe Donne Non solo Legate al senso Anche legate A A personaggi strani Ho giocato Sì Ok ok Ma Quali C'è stato Un GP particolare In cui è stato Complicato Arbitrare O magari Meglio ancora Tu di GP Che hai fatto Che ne hai fatte Tantissimi Qual è Magari tipo Circa 200 Oh no Sarò partecipato Forse Sarò partecipato Non si dice Avrò partecipato Forse 16 15 Qual è stato Quello Quello Sì è super contento Ho speso un sacco di soldi E basta Con Alessandro Riva Tra l'altro Perché il tuo Super amico Alessandro Riva Purtroppo lui È bello Perché lui ovviamente Va a fare GP E un po' è pagato Io che vado a giocare Se non vinco Non becco un euro Quindi simpaticone Giustamente Lui prendeva Gli hotel Quelli super belli Di fianco alla location La base 70 80 90 euro a notte Per tre Vabbò Spendi Mamma mia Con lui sì Personaggio Meno male che c'era Alessandro Io super contento Però Che hotel Ti sei mai lamentato Degli hotel Non mi sembra Uno Uno Gli altri 90 euro a notte Te credo Non mi posso mica lamentare Quattro stelle Però colazione Colazione c'era sempre E comunque Stavo dicendo C'è stato tipo Un GP particolare Cioè Dov'è che ti piace più Ti piaceva magari Se c'è il covid Arbitrare O fare tipo un GP Piuttosto che un torneo Non so Tipo Italia Piuttosto che America Spagna Francia C'è Non so Allora Dunque Io ho arbitrato Sia Sia in Giappone Che in Europa Sia in Asia Che in Europa Che in America Sono tre diverse culture Sicuramente In Oriente Fanno tutto loro Tu ti senti un po' Come Da una parte È un numero Dall'altra È bello Perché sai Perché sai Che non può andare Nulla di sbagliato Cioè Hanno calcolato Tutto prima Tu vai lì Fai il tuo lavoro Torni a casa Che bello Non mi devo stressare Non mi sono stressata Per niente In Europa È stressante Perché tendiamo tutti ad essere allenatori di calcio E arbitri e giocatori e organizzatori Quindi dobbiamo sempre mettere becco su tutto C'è la critica facile Diciamo In America È tutto Roselline Fiorellini È tutto bellissimo Perché c'è la filosofia del criticare gli sparte e in pubblico È tutto meraviglioso Quindi è più rilassante Arbitrare in America È poi in delle sale meravigliose Dei convention center da film In alcuni ci hanno davvero fatto dei film Nelle convention center dei GP o Pro Tour Sale che non finiscono mai E hanno anche tipo i monopattini elettrici Per andare da una Un scherzo Cose così Moquette dappertutto Un'eleganza Cioè sono belli D'idea proprio di show Mentre spesso E volentieri in Europa Capannoni Diciamo Certo Certo Le location Alcune non sono bellissime Quindi l'atmosfera è molto bella in America Ad esempio Un po' una superstar Poi devi stare attento Perché fai degli errori Non te lo dicono Assolutamente Lo scopri Tipo un mese dopo Quando ti arrivano Delle review Con 20.000 critiche Se me lo dicevi lì Magari non lo facevo E magari non continuavo a farlo per tre giorni Per fare la stessa cosa Tipo per esempio Cosa stupidissima In Europa Noi appendiamo I pairings Con lo scotch Ai Pairing boards No? Facciamo i rotolini Nello scotch Certo Certo Anche dei corsi Su come fare i rotolini No scherzo E appendiamo Tutto così Mettiamo la scatola Dei Entry slips Lì tu puoi andare Il giocatore E mettertelo da solo In America Non esiste Non Devi Devi fare avanti e indietro È finito Una partita Vai Alla già gestita Fatti 250 metri La sera hai perso 26 chili Per piede Non puoi Quindi tu magari Dall'Europa Dici ma Scusa Adesso ottimizzo un attimino Metto una scatoletta Non pensi che loro Potrebbero andare Su tutte le furie No? Metto due rotolini Di scotch Invece di stare così Con i pairings Oppure Invece di infilarli Ogni volta In quelle cartelline Trasparenti Prendo un pezzo di scotch L'attacco ai pairings Cioè Boh Mi sembra Magari Non te lo dicono lì Che invece hai fatto una cosa Muscosa Come ti sei permessa Di rovinare L'appearance Del tournè E quindi Però lo scopri dopo Poi sono errori Che magari non fai più Però poi Però ti senti Oddio Cioè Lì Quando stai lì È tutto bellissimo Invece Ah Bravo oggi Sei stata la migliore Mamma mia Meravigliosa Ma l'idea dello scotch È meravigliosa Non ci avevo mai pensato E poi la grande esperienza È che Mentre in Europa O comunque al sud Europa Siamo abituati A fare tre Quattro lavori insieme In America C'è Ci sono due persone O tre Che fanno Lo stesso lavoro Cioè Noi siamo multitasking E loro Invece Hanno le possibilità E quindi Uno fa solo lo scotch L'altro fa solo Certo Più rilassante Comunque Sì Io ti faccio questa domanda qua Perché Beh non sono messo in Asia Però ho fatto un GP in America Ho fatto a Los Angeles 2013-2014 Dici come ho detto Te la location era Stellare Cioè strepitosa Però Io ovviamente giocavo Non arbitravo E ti devo dire che Purtroppo Secondo me Il GP più bello che ho fatto È stato quello Cioè Ho notato Arbitri Gentili Rilassati Tranquilli Anzi C'è sono Sbattati Quindi hai ragione Sì cento per cento Sono smattato io Turno tre Subito tra l'altro Avevo due bias Sono proprio impazzito Ho giocato con How are you doing? Great Bravo Esatto Magari non ce la fai più Che stai estremato Esatto Quattordici turni Quattordici Where are you from? Italy Italia Pizza Margherita Si parte Un'atmosfera di gioco Diversa Lo stress a zero Allora Non ho mai visto Neanche un avversario Magari era il mio giorno fortunato Neanche un avversario Perché tutte le volte Che topdeccavo Proprio la chiave Della partita Per GP Raga Ho topdeccato Qualsiasi carta Non ne ho mai visto Uno Uno Smattare Imprecare il signore Lanciare le carte Mangiarsi le buste Niente Oh great man Nice Devo allo al 5 La mano L'abbraccio E dico Per colpa mia Non fai dei due Proprio così Guarda Cioè Nel senso Abbiamo la stessa visione Sì io guarda Te lo dico Proprio apertamente Senza problemi A me L'italiano medio Nel gioco di Magic Non è che mi fa impazzire Francamente Poi magari sono di quelli Che piange Poi Ti insulta Ti bestemmia Ti sfotte Però io ti giuro Dopo quello americano Che ho fatto Aspetta qua Tutti così Ma anche gli arbitri Perché tipo A turno 3 Quando Io giocavo Gescai Nairi combo Prendevi con Nairi Prendevi Emberkul E vincevi Era il turno 3 Avevo due bye Era G2 Contro Giunda Avevo Nairi 8 Avevo sempre vinto Sempre Io ho pescato per 4 toni Fila Emberkul Invece che scombare E quindi Ho preso il mazzo Poi ho perso L'ho lanciato in aria Vabbè sono impazzito Ti giuro Sono uscito di testa Arriva G2 E mi fa Mi fa Non devi Ti lascio un warning E ne do solo uno Perché comunque Sei esagerato Però tranquillo Se sono inizio Che cazzo che ti frega Guarda sono inizio Sto proprio smattare Però da quel turno lì Basta Calma Neanche un avversario antipatico Neanche uno che Ripeto Magari è il giorno fortunato Ma perché appunto Te la infondono La calma Cioè Non è Non può Scrivare In quel momento Sclererà in altre occasioni Ma non in quella È così C'è anche un'altra differenza Però che È a favore In Europa Ed è Il fatto In America Questi arbitri Si vedono Arbitri Anche giocatori Si incontrano Una volta Ogni 3-4 mesi Perché Costa tantissimo Il volo Ci mettono di più Ad andare Da una parte all'altra Sono più Di più Sia gli arbitri Che i giocatori In Europa Siamo sempre Gli stessi Quindi diventa Proprio una famiglia Dopo Il decimo GP Che fai In Quattro mesi Certo Certo Vedevo di più Cioè Ho visto Negli ultimi anni Quando ho fatto Proprio Tantissimi GP Più loro Che la mia famiglia Cioè Alcuni Con alcuni arbitri Eravamo proprio Cioè Boh Fratelli È la stessa famiglia Perché li vedi Quasi Ogni 2-3 settimane Così Ma Condividi Ansie Paure Difficoltà È la stessa Il linguaggio mentale Che ti unisce In America Questa cosa Ah beh Certo Non c'è Anche giocatori No In Europa Oh bella Andiamo Tutti insieme Il cameratismo Prendiamo Le case Andiamo a cena insieme Là no Ma sì sì Quello sicuro Sì sì certo Certo Qua giustamente Siete sempre Tra virgolette Voi Tra virgolette Ovviamente Perché tutti quelli Che ho fatto Con Alessandro Riva IGP Comunque sempre All'Europa Anche poi In Italia Così Dove sempre Tra virgolette Gli stessi arbitri Ma Nel senso Gli stessi arbitri Di sempre Quelli che Adesso Andiamo a mangiare Con questi Quattro qua Come ogni volta Perché li vedo Sempre là Quindi fai tre giorni Di fuoco In cui sei proprio Una famiglia Ed è vero E sai come lavorano Sai cosa aspettarti Certo Certo Ti faccio una domanda Io invece Ritornando un po' Solo le cose Belle Barra brutte Ma Una situazione Brutta Ma di Giocatori Che litigavano Che è mai capitata Oppure Due giocatori Che palesemente Ti mentissero Proprio Mentissero a me? Sì E c'è Era palese Magari erano anche Grotteschi Qualifiche C'ho a carriere Una volta Ho squalificato Sette giocatori Tutti C'è C'è Il cartellino facile Sì Tantissime Allora Anche qualche episodio Divertente Su queste cose qua Su squalifiche La prima Te la ricorderai La mia prima Sì La mia prima Squalifica Ve la racconto Perché è anche bellissima È una delle storie Più belle Ptq Alessandria Forse 2006 O 7 Un giocatore Gioca Chiaramente Con delle bustine Bianche Un po' Alcune un po' Opache E le altre lucide Decek Io ero capo arbitro Scopriamo Che Le quattro opache Tutte quelle opache Erano spari Perché giocavo Mazzo rosso Bianco Forse Erano tutti spari Quelle opache E quelle lucide Altre cose Quindi C'è un pattern Immediatamente Chiamo questo giocatore Per Insomma Fargli un'investigation Ma C'è Molto strano Insomma Che ci sta Questo Deve proprio convincere Durante l'investigation Ovviamente Nega Io Ferma No no Guarda Che è impossibile Che sia No ma è capitato No ma io Non volevo No ma Alla fine Questo Io gli dico Guarda Io ti devo squalificare Non Cioè Non esiste Proprio Che continui A giocare Con questo Con quello Che hai fatto Lui Mi Prende in disparte Cioè Vieni qua Le devo parlare Da sola Io dico Oddio Ma che Che Vuole picchiare Oh beh La sala Con la valigetta Quindi Ci allontaniamo Ma di due metri Dimmi Senti La vedi quella ragazza Seduta lì Che sta leggendo il libro Sì È la mia ragazza Adesso Io Le ho detto Che sono Il campione Del mondo Di magic E Ora Se tu Mi squalifichi Io Come faccio A tenere su Questa storia Cioè Mi sgama E ti dico Ma Scusa Io capisco Però No no Tu Devi capire Il motivo Per cui Io Ho dovuto Mettere le bustine In un altro modo Perché Le ho già detto Che andrò Al pro tour Non so Che cosa fosse Forse Memphis Dove Qualificava Quel pro tour Quel ptq Quindi Io già le ho detto Che mi devo Qualificare Per andare Lì Adesso Non vinco Questo torneo Questa Mi sgama Quindi Ho dovuto Per forza Cioè Tu mi devi capire Ho dovuto Per forza No Perdo Questa ragazza E io Quando La riprendo Tu devi capirmi Guarda Io ti capisco A livello umano Ma Hai imbrogliato Cioè Io ti devo Squalificare No Ti prego Avrai Sulla coscienza Questo rapporto D'amore Io la amo Non mi puoi Fare questo Prima Un capolavoro Però No Guarda Me lo ricordo Ancora Questo ragazzo Tra l'altro Il nome No Non me lo ricordo Ma Lui Il suo viso Terrorizzato Gli fregava Solo Di questa ragazza Magari Si sono Resposati Dai Ma non lo so Io comunque Mossa a pietà E questo è stato Anche il mio primo Errore arbitrale Perché Ero Giovincella Dal punto di vista Carrieristico E sinceramente Mi ha dispiaciuto Per questo ragazzo Però io ho detto Senti Facciamo così Io Facciamo Io te squalifico Ti devo squalificare Ma te Te squalifico Tipo domani Cioè Tu oggi Continui a giocare Con questa farza Di questa ragazza Lei non si è accorta Di niente Stava leggendo ancora il libro Tu continui A giocare Poi dopo Però Te squalifico A fine torneo Cioè Ho fatto una cosa Che è proprio Terrificante Non avrei proprio Dovuto farlo E ho fatto Talmente Tanta pena E era così Proprio disperato Che Mi sono inventata Ottomila regole Che non esistevano Pur di Farlo giocare Cioè L'ho fatto giocare Tipo per finta Messo in un altro Tavolo Con un altro Giocatore Che ha fatto Tipo D'attore No Per permettere A sto ragazzo Di continuare Lì Di non essere Sbattuto fuori Mamma mia Poi dopo Questo evento L'ho raccontato Al mio esame Da livello 3 Perché Mi chiesero Qual è stato Un errore arbitrale Che non commetteresti Più E loro da curia vera Secondo me Vano già Secondo me Già indagato Questo fatto qua Secondo me Ah non lo so Ma erano Quattro Che mi interrogavano Ero disperata Adesso Mi rimandano a casa Sicuro Invece era Il brasiliano C'era un brasiliano Un giapponese E due americani E due americani Al mio esame Il brasiliano Rideva con le lacrime Proprio Per terra Il giapponese Non penso che Abbia capito Che cosa Era successo E due americani Impassibili Come al solito Ma poi Poi mi dissero Durante il torneo Vabbè 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 L'errore Mi cignano Chi amerà Sto giocatore Ti avrà amato Di sicuro Sto giocatore Eh buono Lo so Era terrorizzato Speriamo Che sia Sto ragazzo Era il tizio Era il tizio Della valigetta Anni dopo Era proprio Alla fine Poi l'ha vinto Sto tizio No Perché l'hai squalificato Dopo No Allora Lui Era squalificato Ma io mi sono Organizzata Per fargli giocare In modo finto Ho capito Ho rallentato Il torneo Perché ovviamente Questo Cioè Lo facevo giocare Anche se non doveva giocare Ho fatto Cioè Mi sono inventata Tutto di più Il torneo È andato Regolarmente Ma è finito Tipo un'ora e mezza Dopo Perché Dovevo anche Gestire St'altra farza Ma vabbè Ero Livello 2 Alle prime armi Un po' E per fortuna Stiamo quasi alla fine Del torneo Nel senso che era tipo Round 7 Ah ok Ok Sì sì Non era all'inizio All'inizio No no Però Vabbè La farza sono di 6 ore È un bello No 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 È stato Solo tipo L'ultimo turno Un turno e mezzo Insomma L'ho fatto continuare Quel turno lì E poi c'è stato Il turno successivo Che sta un attore Di Pazzesco Invece Hai mai Dato dei ruling Sbagliati Che Facessero perdere Per esempio Una partita importante Un giocatore Per uno sommato Potto Piuttosto che Una vittoria No Quello Per fortuna No Cioè Ruling Sbagliati Capitano Soprattutto Di policy Perché C'è situazioni Di gioco In cui In cui Entrano Le policy Cioè Non regole In sé per sé Perché Quelle Comunque Sempre Modo Di fare Double check Con chi hai vicino Soprattutto Negli ultimi anni Ci hanno sempre detto Se non sei sicuro Su un ruling Di regole Proprio Chiedi a quello A fianco Poi vabbè Magari Con l'esperienza Ne fai Comunque Di errori Ci stanno sempre Ma è capitato Errori Decisioni Decisioni Su una squalifica O meno Che ha Ovviamente Modificato Tutto Ha modificato Persone Che potevano Entrare Top 8 Mi ricordo Per esempio A un GP Houston Del 2014 C'era Un giocatore Un pro player Molto famoso Non facciamo nomi Ma era famosissimo Ed era tipo 12-0 Al day 2 Una cosa Pazzesca Pazzesca Questo Stiamo per iniziare Il secondo draft Io sono capo arbitro Chiamo Per far sedere Il giocatore Il secondo draft Tre mancano Due Due arrivano Mentre Sto facendo Il discorso Ai giocatori Per il secondo draft Sai le solite cose Che dici Non alzate gli occhi Chiedevi il cappello Non portate occhiali scuri Queste cose Che non parlate Queste cose qui Che dici Questo qui Sto pro player Non si presenta Lo chiamo Lo chiamo Lo chiamano alcuni giocatori Non risponde E io devo far partire il draft Quindi Faccio partire il draft Lui si presenta Tipo al secondo pick Quando hanno piccato La seconda carta Si presenta Correndo Tutto sudato Che si era perso Per Houston Non riusciva a trovare La strada E voleva per forza Giocare È stata la decisione Più difficile Della mia carriera arbitrale Perché Là C'erano Varie opzioni Ma La più La più logica Dal punto di vista Arbitrale Era quella Di non farlo giocare Terzo Il secondo draft Ma Stava a 12-0 Cioè avevo L'organizzatore qua Wizards of the Ghost Qua che me guardava E io che dovevo Prendere una decisione Ero da sola Ero l'unico capo arbitro E poi ho deciso Di non farlo giocare La fortuna Voluto Ma assistito Che Nonostante Non avesse giocato Non avesse draftato Secondo draft È entrato comunque Nel top 8 Perché aveva fatto Ma io non lo sapevo Cioè era un rischio Non c'era la certezza matematica È entrato comunque Nel top 8 E però Poi I suoi amici L'hanno Anche preso in giro No L'ha calmato Ho preso in giro E la colpa è la tua Eccetera Però per me Avrei potuto Ci sono stati Capi arbitri Che hanno preso Altre decisioni Tipo Ricominciamo il draft Ricostruiamo i pick Poi Si sono presi Gli improperi Perché non si fa Ma Ma Puoi scegliere Di farlo Hai applicato Il ruling Secondo me Quindi non c'è Nulla di male Sì ho applicato Il ruling Ma A volte A volte Cioè È obinato È dura Nel senso Puoi anche decidere Di non Avrei potuto Decidere diversamente È capitato A GP Londra Che è stato ricostruito Un draft Per esempio Al terzo pick Boh Una cosa del genere Pazzesco Ma invece Un motivo simile Però E sono scelte Sono scelte Ti prendi Chi è contento E chi è scontento Ma cambiando Proprio argomento Ma Passiamo a un argomento Un po' più spinoso Secondo te Alcuni cheater Quelli più famosi No? Cito i più famosi Cito alcuni Cheater famosi Super famosi Ce ne sono alcuni Sì dai E Questi qua Super famosi Magari Pluri Bannati E poi tornati E poi ribannati Secondo te Loro Probabilmente Non sono Non possono Redimersi Secondo me Ma altri Che vengono Bannati una volta Sola Molto famosi Che adesso Magari sono anche Dei pro player Molto acclamati Secondo me Secondo te Ci si può Redimere È una cosa Che si può Cioè si può Fare Non si può Fare Ne ho visti Parecchi Di queste Di tutte Di tutte Le nazionalità Che Hanno Barato Consapevolmente Poi sono tornati Veramente pentiti E hanno imparato La lezione Ed è stata La loro lezione Di vita Alcuni si sono presi De banna Di tre mesi O sei mesi O anche un anno Anche di più Per alcune Di queste Persone Magic È la loro vita Ed è anche Il motivo Per cui Hanno barato Perché Non riescono Ad accettare La sconfitta No Però Poi Quando vedono Le conseguenze Che significa Adesso Quello che ami Veramente Non lo fai Per sei mesi Sei costretto A guardare Tutti gli altri Che fanno Quello che ti piace La capiscono Che non ne vale La pena No Non ne vale La pena Commettere Uno sbaglio Simile Per poi Prendersi Quei mesi E non Non giocare Più E quindi Sì L'ho visti Tanti Sono Mi hanno scritto Dopo Per esempio Scusami Senza Voler ottenere Nulla Perché non è Che io decido Quanti mesi Di sospensione Prendo Però Li vedi Che spontaneamente Tornano A chiederti Scusa Oppure A dire Guarda Ho sbagliato Ho imparato Non lo faccio più E poi effettivamente Non Non lo fanno Anzi Si fanno paladini Loro Del Del gioco pulito Il gioco pulito Ok Vabbè Quindi Secondo te Comunque È giusto Tornare la seconda Possibilità Questa idea Sì Assolutamente Assolutamente La data A meno che Beh Quelli che Che non so Alzano le mani Oddio E ci dici Magari E buttaci Due episodi Dai Finali Ci butto due episodi I più belli Dai I più belli Allora I più belli Rimanendo Sui Cheater Ve ne posso Raccontare Un altro Molto Pure questo Molto Divertente E anche Che un po' Riprende anche Il discorso Delle donne Così Ne racconto due Uno Successo A Un GP In America Squalifico Un ragazzo Perché Per varie Volte Ha Pescato Carte in più E l'avevamo Tenuto D'occhio Che quando Ce l'avevano Fatto notare Soprattutto i loro Avversari La maggior parte Delle squalifiche Vengono sempre Dagli avversari Che ci dicono Guarda che In questa partita È successa Sta cosa Quindi noi Iniziamo un po' Ad osservarli Per un po' Di turni E questo ragazzo Aveva pescato Per due Tre turni In più Volontariamente Quindi Lo squalifico Si incavola Come una bestia Mi tratta Malissimo Ma Sei venuta Qua in America Dall'Italia A rompere I congiunti In inglese Mi tratta Veramente Male E io Vabbè Me le prendo Perché non è che Insomma Non ho sclerato Per forza A volte No A volte Non me le sono fatte Scivolare Però diciamo Che ero Mi ha preso In un giorno buono Nell'ambiente Di Los Angeles Diciamo Non sono sempre Così Così E quindi Che è successo E quindi Lo squalifico Lui Si incavola Se ne va Durante i top 8 Io sto Guardo un po' Faccio come al solito Dalla A judge station Ai top 8 Ci sono altri arbitri Io intervengo Solo in caso Di appelli Quando S'appellano E quindi Facevo un po' Avanti e indietro Intanto scrivevo il report Insieme al mio collega Che era il mio assistente Quel giorno E stavamo seduti Tutte e due Si avvicina Questo Della squalifica Dico Dio Mi deve trattare male Un'altra volta Era il mio primo torneo In America Da capo arbitro Tra l'altro Giornata Perché insomma C'era pure rimasta male Che Questo negava E mi fa Senti Guarda Io ti volevo Chiedere scusa Per quello che ho fatto Ho sbagliato Ma Che ne dici Se stasera Ti offro una cena E poi Ti Faccio fare Un giro Della città Io no Guarda Grazie No Non posso Sto Qua Con Altri Arbidi C'abbiamo la cena Arbitrale Dopo Di staff Ecc Il mio collega Che continua a scrivere il report Lo guarda un attimo Poi continua a scrivere Lui se ne arriva Ritorna Dopo Un minuto E mi fa Senti Ma Perché No Guarda Sono sposata Ero sposata Con Riccardo Tessitori All'epoca E mi dice Guarda Io sono sposata E No Non mi va Ad uscire Con un altro Ah E se ne va E dopo Dieci minuti Ritorna Noi stiamo sempre scrivendo E fa Senti ma Non so Ma sta storia del matrimonio È una cosa seria Poi una cosa Così È il GP Las Vegas Probabilmente No No Ero nel Maryland Comunque Io Dico ma Cioè lui era serio Dico ma In che senso Il mio collega Lo guarda E fa Seriously Alcuni matrimoni Sono così Cioè E lui ci fa E il mio collega fa Battene Ma che ho chiesto Battene E lui insisteva Ma qua si offendono tutti Senza motivo Ma che avrò chiesto mai E se ne arrivava Così Ci guardiamo Ma Com'è possibile Che Vabbè Comunque Questo È il mio primo GP In America L'altra Insomma Un po' meno divertente Ma comunque I miei colleghi Ci hanno reso tantissimo Anche sopra Là mi sono È stata Se mi chiedete Qual è la volta Che ti sei Incazzata di più Nella tua carriera È questa Vai A Luca Luca Comics All'epoca Si facevano un sacco Di torneggi GP Drial Legacy Vintage Era proprio bello Nebraska Si 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 Era Alla Luca Comics And Games Facevo Io ero coordinatore Degli arbitri Facevo gli esami Quel giorno E Arriva sto tizio E mi dice Vorrei fare l'esame Vabbè Ok Aspetta un attimo Adesso ci organizziamo Non ci sei solo tu Appena Al turno tuo Ti chiamo Faccio altri esami Arriva lui A un certo punto Dice Ma Quando lo faccio St'esame Ma io devo giocare Facciamo Ecco Mo ti chiamo Facciamo l'esame Lo chiamo Anche affrettandomi Perché Perché Sto voraccio Doveva giocare Quindi Salto Lo faccio Saltare la fila Diciamo Perché aveva Sare scritto Un torneo Un torneo Mi dispiaceva Che poi Non potesse giocare Si siede Io gli dico Allora Prima di iniziare L'esame Dimmi Parliamo un po' Di te No Per rompere il ghiaccio Dimmi qualcosa Di te Non parla Scusa Lo vuoi fare Questo esame Oppure no Scusa ma L'esame Lo devo fare Con te Io dico Sì Perché Ma sei femmina Anno Secondo me Non l'ha passato No C'è No La mia risposta È stata Là Veramente Ho perso Proprio le staff Cioè Ho esagerato Ma Sono diventata Forse Bordeaux Però erano Era Tanti anni fa Sentivo Di continuo Questa cosa Tu sei femmina E quindi Le regole Non le sai E le cose Non puoi Guarda Era un'ossessione Quindi Diciamo che è stata La goccia La fatta Drabboccare il vaso Ma Con te Ma sei femmina Così proprio Con un tono di voce Magari anche brutto Con una faccia da cazzo Sì Infatti Non aveva Non aveva risposta La mia domanda Parlami un po' Di te Niente Lo vedevo proprio E che è successo E dico Guarda Tu l'esame Non lo devi fare con me Perché non lo fai Proprio per niente E lui Ma Che decidi tu Eh Sì Decido io Ma perché Allora Adesso vado a A reclamare Al coordinatore Degli arbitri Che ero io Allora I miei Cioè Mi Mi incavolo Diciamo Gli dico Senti Guarda Cioè Vattene Perché Censurato Chiamo proprio L'organizzazione Chiamo Cioè Non c'è Proprio l'ho un po' Trattato male Poraccio No Poraccio no Ancora mi fa arrabbiare Questa cosa Perché con una Proprio Supponenza Faccio da cazzo Come lo dico io Sì ma Guarda Ma chi E E Allora i miei colleghi Cominciano a prendermi in giro E a chiamare Con il microfono Perché poi Perché poi Io gli dico Scusa ma Allora Se vuoi chiamare Il coordinatore degli arbitri Ma tu lo sai Chi è il coordinatore degli arbitri Gli dicevo E lui Sì Lo so Lo so chi è Sì E valla a chiamare Gli facevo no Valla a chiamare Guarda che sta qua In questa stanza Valla a chiamare Chi è Forza Dimmelo chi è E lui Se ne esce Con Mattia Cohen Che era Il Un dipendente Di Wizards of the Coast Quindi I miei colleghi Per prendermi in giro Hanno iniziato Col microfono A chiamare Ricercato Il coordinatore Degli arbitri Mattia Cohen E Per mesi E per anni Hanno sempre poi detto Che il vero coordinatore Degli arbitri Non ero io Ma Mattia Cohen Che Poverino Non sapeva mai Cosa fosse successo Non si occupava Ma Non si è mai occupato Di arbitri Però Questo Forse È l'unico nome Che conosceva Ha parlato di questo Poi dopo Gliel'hanno Piediamo Gli hanno detto Guarda che È lei Il coordinatore Degli arbitri Ma sei scemo Cioè Tu vuoi fare l'esame Vai a dire a una Siccome sei femmina Questo è avvenuto Sei inginocchiato Ti prego Perdono Così Tutta Luca Che era l'ercio Per terra Perché Luca Non so se ci si è mai stati 200.000 persone Perdono Perdono Così Guarda Poi io ci ho riso Sopra Alla fine Ovviamente Ma è È stato Assurdo Insomma Ecco Comunque posso dire Che questi tre episodi Sono Cioè Fuori dal mondo Cioè una roba Fuori dal mondo Non me ne aspettavo così Sinceramente Mi aspettavo solo due persone Che boh Si menassero Sì ma con un tavolo Che viene ribaltato Tipo una roba del genere Sì Invece proposte Di uscire la sera Non è stata così Sposata Pazzesco Sì Poi se un tizio Si è mangiato Il foglietto In cui aveva scritto La proposta All'avversario I soldi Da dargli In cambio della vittoria Se l'hai mangiato Per non farmelo vedere Questo è vero Non è una leggenda Metropolitana Ok Allora eri tu Ero io Perché l'ha raccontata Mi sembra Jacopo Questa è la storia Ma è la verità Cioè Se l'hai mangiato Aveva fatto Una proposta All'avversario Con dei Con qualche so Non lo so Chissà che c'era scritto Su questo foglietto La stessa cosa Della valigetta Non lo so C'era scritto Il contenuto Della valigetta Non lo sapremo mai Non lo sapremo mai Quando mi sono avvicinato Ho detto Che c'è là E lui Se l'hai mangiato E' la verità Questo è successo Veramente Un altro Che si è vestito Da giudice Perché Perché l'avevamo Allontanato Dalla sala Lui è tornato Vestito Con la 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 Io sono Giudice E quindi Anch'io Vi giudicherò E noi Va bene E' rimasto lì Perché poi Era Canada Eravamo in Canada E in Canada C'è questa legge Che non La polizia Non può toccare Non so C'è qualcosa di Illegale Da parte della polizia Nel toccare Qualcuno Per farlo uscire Dalla sala Quindi l'organizzatore Gli aveva detto Esci Lui No Non me ne vado Poi finalmente Se n'è andato Ma è tornato Vestito da giudice Proprio Con il cappello Rimasto lì Con questa presenza Inquietante Che stava lì Che giudicava Quello che Perché L'avevamo cacciato Da giocatore Veramente Ce ne stanno E lì Sa quanti Fisori Oddio Oddio Sto malissimo Sto morendo Sto alla notte Un altro Che mi ha accusato Di essere A favore Degli italiani Perché mi aveva visto Chiacchierare Con gli italiani E un GP Quindi io Ciao Come va Come non va Prima chiamata Del GP Stavolo Davanti a me E Questi Hanno avuto Un contenzioso Nel senso Una regola di polisi Tra l'altro Anche molto semplice Nel senso Che uno dei giocatori Aveva vinto Il tiro del dado E l'altro E aveva detto Ah Ok Go Ma non Riferito a Go Vai inizia Cioè era Let's go Iniziamo Però era in italiano L'altro Ha capito Ah che bello Questo è il turno suo Ma non gioca niente Neanche una terra E mi ha detto Go Quindi tocca a me E Ha pescato No Per iniziare Il suo turno Quindi mi hanno chiamato E io Guarda che Cioè L'italiano mi ha convinto Per quale motivo Avrebbe dovuto Non gioco niente Manco la terra Mi fa vedere la mano Tipo le terre Giocava pure il rosso Quindi era Mazzo aggro Non dici Go Senza giocare niente Non c'ha senso E questo Si incazza Perché Tu ho visto Che parlavi Con gli italiani Prima Tu sei italiana E quindi Di parte Stanno Stanno tantissimi Con tutte le spese Che hai fatto Ti era fuori L'ambizione Ma invece Ti faccio un'ultima domanda Poi mi sa che siamo quasi fuori Fuori tempo Ma che scusate No 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 Sono volate Io andrei avanti all'impazzata Penso Però poi ci bicchia Ma Ci sono stati Degli episodi Di favoritismo Di un arbitro Rispetto Piuttosto a Come hai detto Un episodio Tra due giocatori Solo che Questo giocatore Conosceva l'arbitro L'arbitro conosceva il giocatore Quindi Amichettini Ma non l'ho favorito Eh no no Si non parla D'altro caso Infatti Mi permetterai mai Penso Favoritismo Non so Hai visto una scena apposta In cui un arbitro Sapendo che Quello era il suo amico È andato lì Ha aiutato Un altro arbitro A decidere Guarda Questo no Non mi è capitato Noi arbitri Cioè Almeno quelli Che fanno tornei Internazionali Sanno che Cioè Verrebbero Sgamati Ma non Cioè Non è proprio Nell'indole Se sei arbitro Dovresti essere Persona onesta E giusta Insomma Quindi Questo non Non mi è capitato Ci sono delle battute Che facciamo Tra noi Tipo Non ne so Con gli spagnoli Con i francesi E vabbè Guarda Stanno in top 8 Due francesi E tre spagnoli Perché guarda caso Il capo arbitro È spagnolo Certo Certo Però Sono battute Non Per ridere Sarebbe molto grave Una cosa del genere Cioè Noi abbiamo comunque Un codice di condotta Quindi Quindi Ti giudicano Insomma Se Sbagli Non lavori più Ma Un arbitro Può essere squalificato O Allontanato Piuttosto che È capitato Nell'ultimi Forse nell'ultimo anno L'organo competente Non l'hanno Fatto più Per motivi legali Forse Non lo so Nel senso che poi C'è stata la pandemia Subito A inizio anno E quindi Tutto quello che stavano Organizzando Non so se sapete Che nell'ultimi Nell'ultimo anno Siamo passati da Siamo diventati Sotto il dominio Di Giorgio Academy Un sito È una specie di università Online Si fanno esami Moduli Lezioni Online Però è una compagnia privata Quindi c'è un capo C'è un Un proprietario Quindi In questo passaggio Forse Ancora non era Non era Definito Questo codice Questo organo competente Anche perché In America Con i problemi Legati alla legalità Insomma Prima di questo Però Quando eravamo Un organo indipendente Avevamo Un Un JCC Chiamato Judge Conduct Committee Del quale Ho fatto parte Due anni Una volta Come membro E una volta Come responsabile E ci passavano sotto Tutte le cose brutte Che avevano fatto Gli arbitri E quindi Noi eravamo E quindi noi eravamo Lì a giudicarle E prendevano Delle sospensioni Sì 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 Se commetti degli errori Puoi essere sospeso Un esempio al volo Senza nomi Che nomi non servono Tanto Solo la La maggior parte La maggior parte Sono su Discriminazioni Cioè Un arbitro Ha detto a un altro Arbitro Qualcosa Che non doveva E quindi O Magari Ecco In un ambiente Sull'omosessualità Oppure Se sei Donna E ti danno Fastidio Rischi Delle penalità Severe Non solo Se sei donna Se sei uomo Se sei uomo Qualcuno Dà fastidio In senso Fisico Anche in quel caso Oppure Per esempio In America C'è un database Con Le criminalità Se sei Stato Dichiarato Criminale Per Per regolamento Non potevi essere Arbitro Quindi alcuni Sono stati scoperti Dopo Che questo organo Il GCC È stato Messo A punto E quindi Sono stati esclusi Questi arbitri Che avevano Che erano anche Criminali Diciamo Però la maggior parte È su Comportamenti Scorretti Va Cioè Non è che Viene sospeso Un arbitro Se Da ruling Sbagliato Sulle Mistrighi Vabbè Certo 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 Le persone Lì Erano sempre La stessa Persona Io me Immagino Come la stessa Persona Tutte con la valigetta Tutte con la valigetta E ti rimarrà E ti rimarrà sempre Il dubbio Su cosa c'era dentro E ringrazio anche Marco Cirelli E va bene Buonanotte Tutti È stato un onore Speriamo di rivederci presto Sul campo Grazie Esatto Ci rivedremo Ci rivedremo Dai ce la faremo Ciao Ciao ragazzi Chiudo Buonanotte Buonanotte Buone botte Buonanotte 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 Buonanotte